Lello, classe di batteria Marilisa, per la classe di canto, insieme ad Annalisa Giacomo, la classe di basso Ed è ritornato Gaetano By the way E il maestro di chitarra Duccio Per la classe di canto 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 Per sorpresi trailers Per la classe di canto Annalisa Per non Operatrice Le Sonate tér 있다는 Grazie 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 Gaetano alla voce Francesco al basso e Romano alla batteria